Non sapete cosa fare da mangiare? Nemmeno io! Ma per fare sta ricetta praticamente ho dovuto solo aprire il frigo Avevo una confezione gigante di stracchino che stava per andare a male E praticamente basta E le patate Perché le patate in casa mia ci sono sempre Quindi ho tirato fuori tutte le mie doti artistiche E facendo una specie di tetris Ho preparato questa teglia di patate e stracchino Anche se non ero particolarmente convinta di cosa sarebbe venuto fuori Ma come diceva mio nonno Se un ingrediente è buono e l'altro anche Se li metti insieme viene fuori una roba buona Che poi non è sempre così ma in questo caso sì Comunque ricapitolando Tagliate le patate a fettine sottilissime Mettete in una ciotola stracchino parmigiano e latte Strato di patate, strato di crema, strato di uovo di patate Parmigiano e via in forno Viene fuori una crosticina buonissima Sono facilissime, velocissime Le patate manco dovete cuocerle prima E ovviamente come dico sempre Anche oggi all'acciato e grembiole provatela anche voi